Buongiorno, cari studenti. Vorrei presentarvi qualcuno. Lei è Claudia. Ciao, ragazzi. Non vedo l'ora di conoscervi. Non vedo l'ora di conoscervi. Ciao, Claudia. Ciao, Lisa. Finalmente ci incontriamo. Come fai a sapere il mio nome? L'ho sentito da qualche parte prima. Ti va di venire a casa mia? Possiamo giocare insieme? Possiamo giocare insieme? Certo, perché no? Che strano posto. È davvero questa la via di casa tua? È davvero questa la via di casa tua? Sì, stiamo arrivando. Seguimi e basta. Quindi, questa è casa tua? Sì, benvenuta. Ho aspettato a lungo questo momento. Ho aspettato a lungo questo momento. Vuoi qualcosa da bere? Sì, mi piacerebbe. Ho sete. Ecco, bevi questo succo. Ti piacerà? Ne sono sicura. Grazie, sembra buono. Grazie, sembra buono. Che sapore aveva il succo? Mi gira un po' la testa. Molto bene, funziona. Ascoltami bene, Lisa. Farai come ti dico. Farò come dici tu. Obedirò a Claudia. Obedirò a Claudia. Voglio che tu faccia qualcosa domani, Lisa. Voglio che insulti il maestro Luigi. Lo farò, Claudia. Il giorno dopo. Buongiorno, cari studenti. Ho una domanda, maestro Luigi. Che succede, Lisa? Perché sei così idiota? Perché sei così idiota? Cosa hai appena detto? Ti ho chiesto perché sei così idiota? Esci, Lisa. Riceverai una nota disciplinare. Molto bene, Lisa. Vai a casa adesso. E litiga con Samuele. Ok, Claudia. Samuele, ho bisogno di parlare con te. Che succede, Lisa? Cosa ci fai qui? Cosa ci fai qui? Cosa intendi? Vivo qui. Non fai parte di questa famiglia. Ti sei intrufolato qui. Non sei mio fratello. Sei solo un ladro. Molto bene, Lisa. Hai ancora due compiti. Per prima cosa, devi rubare qualcosa a Sara. Per prima cosa, devi rubare qualcosa a Sara. Preferibilmente qualcosa di prezioso. Puoi farlo per me? Certo, Claudia. Farò qualsiasi cosa per te. Cosa stai facendo qui, Lisa? Mi sei mancata, Sara. Andiamo al parco? Sì, devo solo andare in bagno prima. Devo rubare qualcosa. Ci deve essere qualcosa di prezioso qui, da qualche parte. Quella collana sembra costosa. Ruberò quella. Ruberò quella. La collana della mamma è sparita. Cosa mi hai portato? Ecco una collana per te. Solo una? Portane due la prossima volta. Cosa devo fare adesso? Dirai ai tuoi genitori quanto segue. Dirai ai tuoi genitori quanto segue. Non posso farlo. Mia madre non me lo perdonerebbe mai. Farai quello che ti dico di fare. Capito? Mamma, devo parlare con te. Qual è il problema, Lisa? Ieri sei andata a casa dopo la scuola. Perché? Cosa è successo? Papà era qui, ma non era solo. Papà era qui, ma non era solo. Cosa intendi dire? C'era un'altra donna. Papà è quella donna. Si sono baciati. Non ci posso credere. Mario l'ha fatto davvero? Scusa, mamma. Che succede, Maria? Perché stai piangendo? Vattene da qui. Non voglio vederti mai più. Non voglio vederti mai più. Ha funzionato tutto, Lisa? Sì, ha funzionato. I miei genitori stanno per separarsi. Hai fatto un buon lavoro. Perché sei stata così cattiva con me, Lisa? E tu mi hai derubata. Forza, Lisa. Andiamo. Non sono tuoi veri amici. Non sono tuoi veri amici. C'è qualcosa che non va qui. Lisa, di solito, non si comporta così. Penso che abbia qualcosa a che fare con questa Claudia. Dobbiamo scoprire cos'è successo. So dove sono andate entrambe. So dove sono andate entrambe. Vieni con me, Sara. Siamo davvero nel posto giusto? Sì, l'appartamento di Claudia deve essere vicino. Che cos'è quello? Sembra che Claudia sia a casa. Dobbiamo trovare un indizio. E' successo qualcosa a Lisa. E' successo qualcosa a Lisa. Hai trovato qualcosa, Samuele? No, non ancora. E tu? Ci deve essere qualcosa qui. Penso di avere trovato qualcosa. Che cos'è? Non lo so, ma c'è scritto antidoto. Non lo so, ma c'è scritto antidoto. Potrebbe essere ciò che cerchiamo. Cosa state facendo qui? Avete mai sentito parlare di violazione di domicilio? L'hai stregata. Sappiamo cosa hai fatto a Lisa. L'hai stregata. Lisa è mia e non potete farci niente. Lisa è mia e non potete farci niente. Veloce, Lisa. Bevi questo. Cosa mi hai fatto, stupida? Cosa mi hai fatto, stupida? Non avevo più il controllo su di me. Ho dovuto fare quello che hai detto. Vai via da qui e non farti vedere mai più. Vai via da qui e non farti vedere mai più. Hai capito? Sì, mi dispiace, Lisa. Scusate, ragazzi. Non sono stata me stessa negli ultimi giorni. Nessun problema, Lisa. Sapevamo che c'era qualcosa che non andava in te. Grazie per avermi salvata. Siete i migliori. Come viene punita Lisa dal maestro Luigi? A. Arresti domiciliari. B. Nota disciplinare. C. Un 2. Scrivi un commento. A. Arresti domiciliari.